Musica Bella ragazzi, qui è il champ, bentornati e chiusciuti con questo nuovo video E oggi siamo tornati con il terzo episodio del Road to Commander Su la foresta dell'Argonne E siamo su conquista, non mi ricordo se l'ho già portato In questa modalità, io oggi volevo farvi vedere questo possibile Che l'interia è utentissimo, ragazzi, via 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 Allora, la partita è già cominciata Ma è arrivato Ma è arrivato Ma è arrivato Ma è arrivato Bene 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 Conquittiamo Meno male, abbiamo fatto i 500 punti in meno di due secondi Adesso iniziamo ad andare a conquistare G Stiamo a brin, ci stiamo vincendo quindi con la squadra forte, sperando Alla colto fucile, ancora non avete avuto l'idea Non è potente Vabbè, quello No, regà, due colpi per davvero questi, io tolto 10 Un colpo Troppo, ragazzi, 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 ragazzi di piallo raga perché se no io sparavo sicuramente a me mi ha ammazzato ok mi ha ammazzato col bar ok ragazzi da giù mamma mia di uccisione volevi però ve lo dirà questo coso è forte quanto mi pare però il problema è che c'è cinque colpi e vabbè dopo un po' mi hanno ammazzato già credo mamma mia rega vabbè mi hanno ammazzato no non è morto vittoria ragazzi vittoria col verde col verde rega perché siamo in argon in teoria vabbè stavo fuori mappa in teoria però va bene ragazzi prima vittoria di questo episodio da un po' il nostro punteggio ok raga non ce lo fa vedere perché noi siamo cattivelli e ci vediamo con dentro la seconda partita ok raga siamo gli aerei gli aerei ragazzi della Gran Bretagna danneggiato ma in teoria non è danneggiato io cerco di dirà ho fattuto però ok piano piano vai 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 siamo murati a metà ok l'abbiamo ucciso cioè l'abbiamo ucciso l'abbiamo fatto andare via buono questo è un obiettivo ok grande kill tutta brandelli da che cosa cioè no questa è la morte più bella del secolo ma come fa sto a tre metri da lui come fai vabbè l'ho mattato i boccosi a caso abbiamo conquistato ok col coso di assalto rega ma sta ma scherzà cioè ma sta ma scherzà sul serio rega mi ha ammazzato col coso di assalto ma manco un carlino riesce a fare una cosa così manco quelli della finnus oh chi vuoi parlare e vabbiamo ammazzato questo è sempre col mondragon mondragon del d'assalto volevi shut up please rega mi sono salvato ma rega non so come e quando perché per quale per un motivo come mi sono salvato principalmente mi sono salvato ma che vuoi va che problemi rega c'è un cerchino di dire di noi addirittura ah raga mamma mia raga che ho fatto no sono morto che prego non morì ah raga mi sono salvato un'altra volta con uno di vita raga con uno di vita cioè questa è la cosa più bella che mi sia mai capitata rega ma rega che davvero non mi ammazza ah raga l'ho ammazzato non sono salvato un'altra volta con questi cavalli oddio tempio ok 3 kill per noi andiamo un attimo con la pistoletta posso fare i torri quindi eh vabbè uno dei nostri obiettivi è stato conquistato ma grazie verso l'obiettivo fax trotte mamma cusolo ah raga come ha fatto lui con un fucile da medico ammazzarmi 78 dobbiamo conquistare B assolutamente rega almeno almeno abbiamo A B mamma mia come sono salvato pure 4 di vita rega ma perché io parlo rega non si può vedere nessuno con sta nebbia manco uno niente rega abbiamo perso abbiamo perso rega sconfitto vabbè una vittoria è una sconfitta che non è ragazzi che dire abbiamo fatto diversi kill oggi strabilianti perché siamo riusciti a sopravvivere in occasione che sarei morto con uno di vita stavo però vabbè ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like di supporto per il rotto commander un commento e scrivetemi se volete anche nuovi video non solo su Battlefield ma anche su altri giochi e spero di registrare adesso anche qualche video sul Rainbow perché sto portando solo Battlefield e ci vediamo con un prossimo video ragazzi bella ciao ciao